La storica bicicletta di Che Guevara, ora di proprietà dell'artista e collezionista di Alba Triatica, Giancarlo Bucci, è rientrata in Italia dopo essere stata spedita all'Havana per essere esposta alla nota manifestazione sportiva internazionale, Eroica Cuba, riservata alle biciclette d'epoca. La bicicletta del CE Bucci l'ha acquistata nel 1990 a Rosario in Argentina durante un viaggio, un pezzo di storia originale con tanto di documentazione e foto del CE con biciclette e pedali con motore garelli, che venne utilizzata nel 1950 per percorrere 4200 km. Bucci è un grandissimo collezionista e possiede circa 350 bici di tutti i tipi che rappresentano la storia della bicicletta. La bicicletta a Cuba è stata esposta di fronte al Museo della Rivoluzione, dove centinaia e centinaia di cubani sono andati a vederla e tutti la volevano toccare. Ma ho le foto che mi ha mandato Giancarlo Bucci da Cuba con Aleida, la vedova di CE Guevara, e Ernesto Guevara, l'ultimo figlio di CE Guevara, commossi davanti alla bicicletta del padre e del marito. Questa bici ha un grande valore storico e Bucci ha annunciato di volerla donare alla famiglia di CE Guevara per essere esposta a Cuba. La vedova ha espresso un desiderio a Giancarlo Brocci, visto che Cuba sta attraversando un periodo difficile di economia. Il suo sogno è che questa bicicletta potesse essere nel museo a Cuba, dove lei era direttrice del museo di CE Guevara, perché intelligentemente ha pensato che potrebbe richiamare anche qualche turista in più per vedere questo pezzo importante della storia di CE Guevara. Ma questo potrebbe succedere anche ad Alberiatie, che sono anni e anni che cerco di fare un'esposizione permanente, un museo. Tutti vogliono fare, ma poi nessuno fa niente. Ma niente di meno, non c'è stato nessun monito di ringraziamento che io ho fatto parlare più di 150 giornali nel mondo, che la bicicletta di CE Guevara stava a Cuba. Ma io ho il sogno di Aleida, io lo faccio avverare, perché Giancarlo Brocci gli ha detto tenga duro un altro anno, alla prossima eroica, che sarà a febbraio del 25, la bicicletta tornerà a Cuba. Sia se cambia Aleida e se cambia pure io.